Il film nasce dall'esigenza di non lasciare che la memoria si dissolva. Le cose che facciamo, le azioni, i sentimenti, anche i simboli esistono se vengono raccontati. E questa storia secondo me aveva non solo il diritto ma anche il dovere di permanere nella nostra memoria e di essere raccontata. Il film è un film che parla di una vita, parla della vita di un artista, delle sue opere e della sua ultima performance che realizzò insieme a un'altra artista, Silvia Moro. In questa performance loro avrebbero attraversato 11 paesi sconvolti dalle guerre, vestendo un abito da sposa che doveva simboleggiare il matrimonio tra le genti e compiendo questo viaggio in autostop perché è un mezzo per affidarsi al prossimo appunto. L'obiettivo di questo viaggio era portare un segno di pace, dimostrare che il matrimonio tra le genti è possibile. Grazie mille Torino Film Festival, siamo onorati di essere qui.